Ciao a tutti, eccomi qua, sotto con me vedete Franz Messina che sta preparando il pane, quindi è proprio una diretta molto casalinga, come sempre fatemi sapere se ci vedete, ci vedete, è fonte di ispirazione e di lavori, perché sentiamo molto quello che c'è da fare e non c'è da fare. Bene, ciao a tutti, vedo che cominciate a arrivare in tanti, bene, aspettiamo sempre qualche minuto prima di iniziare la diretta. Grazie per avermi chiesto di partecipare e ti faccio i complimenti per le dirette che stai facendo giornalmente, perché sono fatte molto, molto lì, vai impiegando in modo chiaro, semplici, argomenti interessanti, veramente bravo. Grazie, grazie Franz, sì, mi sento che sai che è bellissimo, quella che è la filosofia della mia azienda, che tu condividi, non c'è niente da nascondere, siamo qui per chiunque vuole imparare a fare fotografia. Vedo che siamo in tanti, vi saluto un po', Elena in proposition, Katia, Daniele, Agnese, Giulio, Stefano, Emanuele, Barbara, Angela, Mariuccia, Mariuccia, auguri per l'altro giorno. Sì, Daniele, tutto bene, stiamo tutti bene, fortunatamente, anche quel periodo è quello che è, ma come vedete noi ci siamo e cerchiamo di dare sempre il meglio. Quindi, visto che ci sono già stati qualche minuto, direi di iniziare. La diretta di oggi è una diretta che ho deciso di fare dopo molte vostre richieste, avete che è sempre chiesto come funziona il flash esterno, ovvero quello che adesso ho in mano. Ok, questo è il giudice internale qua che in molti comprano, ma non sanno usare, in tanti hanno paura di acquistarlo. Un'altra domanda che mi avete fatto è anche quella di come faccio a creare un mini set a casa, la necessità di fare delle foto a casa e non di noleggiare. Barbara si sente male, Barbara senti male me o senti male Franz? Così vediamo di regolarci. calcolate che Facebook in questo periodo fa abbastanza i capricci sulle dirette, perché figurate, tutti fanno dirette, quindi la connessione è quella che è. Quindi quella di fare un mini set a casa, quindi come creare un mini set? Per questo mi è venuta l'idea di chiamare Franz, perché lui ha iniziato proprio con un mini set con i flash esterni, o flash cover, da casa, quindi poi farà vedere, parlerà lui della sua esperienza e poi farà vedere qualche sua foto. Quindi direi di incominciare a parlare proprio del flash, del flash esterno. E cos'è il flash esterno? Il flash esterno non è altro che è un illuminatore, quindi mi serve a creare luce. Gli dove non ce no. D'accordo? Attenzione però, il mettere troppo luce toglie luce. Cosa vuol dire? Che se io vado a illuminare in una scena buia, che è come per essere l'interno di una stanza, una persona con un flash, immaginiamo anzi un ambiente un po' più grande. Una chiesa. Mi vado ad illuminare una persona con un flash con molta luce sulla persona, quindi la persona viene illuminata molto bene, dando molta luce alla persona, succede che lo sfondo mi esce completamente nero, perché non ha la stessa contesta di luce che sulla flash. Ricordiamoci che la luce ha una caduta, nel senso che più mi allontano dalla sorgente luminosa, più la potenza della luce diminuisce e quindi non illumina a sufficienza il soggetto. Ricordate che questi flash arrivano a una distanza massima di 10 metri. Non potete sperare ad andare oltre, di illuminare un piazzale intero, piuttosto che un'intera chiesa, piuttosto che... Dovete anche aiutarvi con altre tecniche, che poi ve lo vado a spiegare. Sì, Mariucci, ci vedete nei quadratili piccoli? Se volete vedere il fan grande, vediamo se riesco. No, non riesco. Niente, sì, piccoli, perché poi vi faccio vedere... come faccio a... a ingrandirci. Vediamo. Abre in zoom. Ok, provo a tirar via la condivisione. No, no, guarda, esatto, la condivisione dello schermo... Ok. Tu ci vedi grande. Ah, mi ci vedete, tu quasi ci vedi grande. Ok, Mariucci, almeno... Lui è un po' più bellino, io un po' più bronciato, però dai, tutto sommato... No, vabbè, prendiamole. Guarda che capelli. Sono veri. Quindi, tornando a parlare del nostro flash, quando si decide di acquistare un flash, quindi avere un illuminatore esterno che ci aiuta ad illuminare la nostra scena, piuttosto che i nostri soggetti, che poi andremo a vedere in quelli casi si usa, devo considerare tanti fattori. Uno di questi fattori è la linea guida. La linea guida sono i numeri fissi, che sono 35, 43, 46, 56, 60, quindi scorrendo li trovate nel manuale dei flash. Maggiore... Se io ricontrollarlo prima di comprare il flash, assolutamente, questa linea guida non è nient'altro che la potenza del flash. Cioè, più alto questo numero, più è potente il flash. Quindi, essendo più potente, ha la possibilità anche di andare più distante. Attenzione però, con il discorso di prima, più luce, meno luce. Cioè, devo riuscire a calibrare quella che è anche la potenza della luce, quella che è la mia esigenza. Il flash che vi faccio anche io adesso in mano è un Canon 430X della seconda serie e sono dei flash con linea guida proprio 43. È in genere scritto proprio nel numero, Agnese. Agnese ci chiede dove è la linea, il numero guida e nel numero, in genere, nel modello. No, no, non si può sbagliare. E comunque lo si trova quando lo si acquista, nei dettagli lo devono specificare per forza. Posso dare un consiglio? Certo. Esiste? Guardate, io quando devo fare un attesto, prima di fare un voluto attesto, vado su Google. E vi faccio, mi cerco magari una schiera tecnica del prodotto che devo acquistare. In questo modo evito di avere delle sorprese, anche perché magari il produttore cercherà sempre un po' di portare l'atto al semoleno. Quindi, prima mi informo, controllo, magari sento tanti o due tanti, un po' di più esperienza. Cosa ne pensi di questo prodotto? Quindi mi confronto e mi dice, guarda, è un ottimo prodotto, poi guarda, per te non ti serve, perché come lavori tu, non hai bisogno di spenderesti più, qualcosa che non ti serve. E allora poi in base a quello poi decido di acquistare. Esatto, concordo con Francia. Il mescolatore sta preparando il pane. Mi chiedono cosa fa il mescolatore. Il pane, il pane, mi faccio il pane, perché mi scadeva il lievito, e mai evitare il lievito, soprattutto in questo periodo, mi faccio il pane e poi lo faccio il mio. Lavoro in un'alberghiera, quindi qualche cosina lo ho appresa in questi anni di insegnamento. In effetti, io chiesto prima di farmi una lezione personalizzata su come si fa il pane. Abbiamo provato diverse volte a fare il pane in casa, ci esce sempre buono, ma non come vorremmo. Quindi magari anche lì ci serve da imparare. Ma torniamo a noi. Quindi, l'importante è la potenza del flash. Esistono in commercio, oltre flash di marca, che ovviamente sono molto costosi, anche flash che non sono di marca, che sono di un mercato parallelo. Attenzione, che però abbiano i contatti per la vostra macchina autografica, perché se avete Canon, se avete l'attacco Canon, se avete Nikon, se avete l'attacco Nikon, se avete Pentax per l'attacco Pentax, Sony è molto più particolare, perché ha bisogno del suo, soprattutto le Sony di qualche anno fa hanno bisogno del loro adattatore, che hanno la slitta differente da tutte le altre, quindi informatevi bene prima dell'acquisto. E Agnese dice che aspetta la ricetta e anche la lezione per fare il pane. Nessun problema, la faremo insieme a Tano. Quindi registro, e Tano che è molto più bravo di me, anche con Premier, un buon Leonardo da Vinci, da Vinci, da Vinci, da Vinci, imparato il montaggio, dico che, d'altronde, ragazzinezio, sono casalingo, non è molto più senso, quindi è meglio chiedere a chi è più bravo. Tano ha detto una cosa giusta, bisogna valutare anche i prezzi. Esatto. In fase di acquisto. Ci sono degli ottimi prodotti anche non originali, quindi anche lì basta chiedere a noi, perché è un po' di esperienza, quindi lo sappiamo indirizzare. Esistono anche qui due tipi di flash. Ci sono quelli che sono speed light, quelli che ti danno la possibilità di utilizzare scatti molto veloci nella macchina, e ci sono invece quelli che hanno invece un tempo di scatto sincronizzato, ed è quello. Anche lì, a seconda di quanto si spende del modello che si compra, ci sono differenze. Qual è la differenza? Normalmente il tempo di sincronizzazione tra la macchina e flash è di massimo un sestantesimo di secondo, un duecentesimo di secondo, perché il flash emette un lampeggio, l'otturatore in cui la frazione di tempo si apre e si chiude, e ci permette di catturare tutta l'immagine. Se vado oltre quel tempo, quindi un tempo più veloce, l'otturatore si apre e si chiude prima, e una parte della fotografia mi esce scura, quindi guarda attenzione al tempo di sincronizzazione. spesso già le macchine fotografiche vi bloccano i tempi. Ciao Simone. Del Yiong XN600 XRT seconda, cosa ne pensi? Un buon ally. Allora, sono i flash della Yiong XN600, sono delle versioni, cui diceva Tano, poc'anzi, economiche, in virgolette, dei flash abbastanza stabili, direi, delle buone alternative. Occhio che, 100 euro di Fletcher non possono essere comparati con 500 o 600 euro di Fletcher, nel senso che un conto, direi, un Audi, un conto avere una Skoda, per capirci, per quanto siano della città della carne. Però, se non ricordo male, però è comunque una buona, io ho usato il Yiong XN600, il flash è una di marca, e gli missin. Yiong XN600, sono più, io ho anche, adesso non so per dire come si chiama, se non sbaglio il cinese, se non ricordo male, prima e tenda, sono dei buoni flash. Noi adesso, usavamo ultimamente il Propoid, anche questi, se non sbaglio, la giusta Propoid, sono i Gingbei, e in qualità i Gingbei che ho provato, sono sicuramente, di qualità, ottima, hanno buon film, e hanno sia la versione da studio, che la versione Cobra, ovvero il flash di l'inità, e si dice anche Cobra, questo è il film di Cobra, il film di Cobra, che sono comunque ottimi, sono buoni flash, sono buoni flash, ogni esempio. Esatto, ovvio, la plastica all'esterno, non sarà molto studiata, come quelli di Canon, Nikon, avranno i tasti un pochino più grossi, un pochino più plasticoso, però sono sicuramente tutti, sono in effetti quelli che noi consigliamo. Consigliano un TPL, l'importante è controllare, quanto meno TPL, che penso che stanno dopo, quello che stavo per spiegare adesso, ho anticipato di qualche secondo. Poi, di questi flash, ne esistono due versioni, quindi capite che ci sono già la potenza, dell'andare capitolare, la potenza del flash, espresso in guida. Poi parliamo della marca, poi parliamo del fatto che siano TPL o meno, cosa vuol dire TPL? Vuol dire to the lens, attraverso le lenti, non è nient'altro che un automatismo, che hanno questi flash, dove io vado a impostare, mettendo la funzione ovviamente, TPL su flash, flash legge la lunghezza focale dell'obiettivo, quindi la lunghezza dell'obiettivo, e qua davanti, va a regolarsi la parabola, in modo automatico, in modo da dare più o meno profondità, ok, al flash. Magari vi faccio un disegnino. Dico questo ragazzi, se andate a cercarlo online, spiegato non è presente, spiegato così bene, non lo troverete mai. Io penso che questa sia la spiegazione migliore per il TPL che abbia mai letto, sentito, da fine a quando ho cominciato a utilizzare il flesso di lenta. Complimenti Tano. Ok, grazie. Allora, adesso lo facciamo imbarazzare. Allora, immaginate che questa parte che sto disegnando, ok, e questa qua davanti, d'accordo? E questa qua davanti, che qua abbiamo lo spezzio. Quindi cosa succede? Magari la faccio un attimino più grossa, un attimino più grossa, perché la finta è meglio. Quindi ho questa parte, all'interno c'ho una parabola con la mia lampadina. Ok, questa è una lampadina. Cosa succede con un flash TTL? Che se io ho una lunghezza focale di, non so, 24 mm per avertene un grandangolo, questa lampadina, questa parabola, si avvicinano verso il mio specchio e mi vanno ad ampliare la parabola. In effetti, se dopo magari faccio la prova, lo monto sulla macchina e vediamo se si sente questo rumore. E io invece vado ad allungare la focale, quindi a 70 mm, se c'è questo parabola si allontana, ok, allontanandosi, ovviamente, la mia parabola, cioè la mia uscita della luce, sarà più diffusa, quindi sarà più concentrata sulla distanza. Questa è la funzione TTL. Ma questo lo fanno solamente i flash che sono TTL. Se invece ho un flash, come quello che ha in mano Giulio, che in questo momento mi sta chiedendo DIN cosa significa, ok, DIN è la potenza della flash, devi andare a mettere, devi andare a mettere tu davanti, ok, quelli che non hanno il TTL. Quelli di adesso basta mettere lunghezza focale sulla, all'interno delle funzioni. Quelli vecchi hanno qua in parte una leva che avvicina e allontana automaticamente, cioè in modo manuale, la parabola. quindi vado a decidere io manualmente questa parola qua, ok, oltre che la potenza è espressa in DIN oppure è espressa in più o meno quello che vi dà il display. Poi dipende sempre dal modello di flash, come è costruito e come non è costruito. Andiamo a vedere il mio flash TTL come funziona e se fa veramente quello che vi ho detto. Guardate un secondo che recupero una macchina che ce la faccio vicino. Quando usate il flash esterno separato dalla macchina dovete usare dei ricevitori di cui dopo parlerà tanto. Anche in quel caso dove si comprano ci sono quelli TTL e quelli non TTL e c'è una differenza anche dal punto di vista monetario. Ok, vediamo cosa succede se io allungo anche la mia. Non so se vedete che la parabola si muove. Vedete? Si muove fisicamente. Si vede tanto. Perché io sto variando la lunghezza focale. D'accordo? Quindi molto questo è importante. Oltre a gestire quello il TTL gestisce anche la potenza in base alla distanza del soggetto e tanta altra roba che fa in automatico la macchina il flash. Quindi una volta che io decido il flash acquistare quindi quanto investire so benissimo quanto sarà il lavoro che devo fare io nel postare la macchina piuttosto che la macchina è flash da soli se è il TTL e da lì ovviamente ho minuto che Gaetano io ho acquistato il flash ma devo anche incominciare a usarlo. Ok? Normalmente se è TTL e se le situazioni di luce non sono estremamente difficili quello che già decide la macchina funziona molto molto bene. Una cosa importante è che se state scattando con flash in macchina e volete evitare ombre brutte e quant'altro mettere il flash in una posizione ovviamente non diretta sempre verso l'alto. Sopra si possono acquistare e vendono online piuttosto che insieme a flash dei diffusori quindi delle cose a mettere davanti che rispondono alla luce questi diffusori possono essere in plastica possono essere in cartone possono essere in tessuto ce ne sono in commercio tanti una cosa che io metto su sempre anche per farmi pubblicità adesso non ce l'ho a portata di mano questo è quello della mia carta di anzi se aspettate 20 secondi la prendo a luogo. io vi dico consigli che a tutti per fare il diffusore allora i vasetti dello yogurt bianco messi davanti al flash possono aiutare a spandere leggermente la luce dei foglietti di carta bianchi possono aiutare a spandere la luce o il futuro meglio se mi sta vista e me lo diventa una grande tra l'altro un biglietto da visita possa vedere un grande annuncio poi le panno di cibi con pianti e messi davanti al flash possono aiutare a fare un piccolo effetto di sfusore un'altra cosa perché si vuole cimentare questa è la chicca che sto provando in questo periodo per diventare un po' le luci quando ando a fare i servizi sono delle cartine di colore differente vediamo qua vedete bianco per diffondere che io posso applicare sul mio flash vedete tenuti ovviamente da un elattico e ce ne sono di diversi colori e diverse gradazioni vedete e posso andare a correggere quelli che sono un po' le dominanti di una scena se ovviamente utilizzo l'upper artificiale oppure per andare a creare effetti particolari e questi li trovate a pochi euro anche su su algo vedete sono in questo che sono di diversi robo è quello perché producono anche dei flash fender ad esempio i robo possono essere utilizzabili per diffusore e valvo io dopo nel porto che ho preso uno l'ho usato vi farò vedere l'ho usato come snut l'ho avvolto il bernard fesso l'ho usato per passare fitta se lo rincorna come inizia ok Giorgio chiede ovviamente con TTL sincronizza con il tempo di scatto TTL è solamente la lunghezza focale e la potenza quindi la gestione della luce per il tempo di scatto devi essere il tuo sincronizzatore in macchina normalmente non va oltre le due centesimi ci sono poi quelli che sono ad alta velocità perché ad alta sincronizzazione come flash dove quando un tempo magari non so di un millesimo è un flash normale sarebbe possibile fare lo scatto che cosa fa con il flash in quel millesimo di secondo dà diversi colpi di flash però che uno non ti accorgi ma permette alla macchina mi ricordo che un millesimo di secondo quando l'occuratore si apre la seconda tendina segue a breve spazio e quindi fa tanti scatti e gli permette di andare a coprire tutte le zone e questo ovviamente cambia da da flash a flash per avere questa funzione sono flash che costano come gli automobili più voi opzional più costano via discorrendo ci siamo ora sull'uso del flash per avere poi il flash usarlo separatamente o prendete i flash che sono già sincronizzati con le vostre macchine quindi abbiamo la macchina che con i flash della stessa marca permette di dialogare per chi ha per esempio l'i430 i 430 sono degli slave i 560 sono dei mascher quindi dovete avere il master costo? certo costo Tano vediamo che Tommy diceva le indicazioni su flash buono senza due nasi io vi dico la funzione che dici tu Tano ad esempio io su Nikon la uso con i Nissin che costano un quinto della variante Nikon più o meno un quinto un quinto della variante Nikon e generalmente con la funzione commander ovvero il flash viene comandato dal flash della macchina ovviamente dovete avere una macchina col flash in camera ovviamente e puoi utilizzare il flash esterno anche senza il ricevitore in questo caso io uso la Nissin quindi se vuoi sentire che non mi ha mai lasciato a caso dico la verità e TPL ha un'interfaccia abbastanza semplice abbastanza comune e funziona bene veramente bassa in alternativa ci sono i Yacht che anche lì sono buoni ma senza svelarsi la versione che uso io è l'i700 i800 poi l'ho preso tanto tempo fa non mi si è mai rotto quindi non ho avuto mai bisogno di cambiarlo io uso ancora un SB28 della Nikon è un modello che penso sia poi riposizione da 10 anni in che non si rompono io le cose ripeti la marca Nissin la marca Nissin per chi non ha il flash nella camera Agnese devi comprare due flash oppure a breve adesso vediamo la vediamo la la soluzione d'accordo ok quindi abbiamo fatto un escursus sui flash su quali sono possono essere pro e contro chi ci consiglia se volete acquistarlo più spendete ovviamente più avete se dovete fotografare per esempio in un ambiente molto buio quindi cominciamo a dare i consigli tecnici su come utilizzarlo in macchina per esempio mi capita spesso è che le chiese molto buie utilizzo il flash per riempire la scena degli sposi ma lo sfondo ovviamente è sottoesposto è nero come faccio a far uscire le informazioni sullo sfondo o aumento gli iso voi mi dite si ma aumentando gli iso non rischio di rovinare la fotografia di perdere informazioni perdere informazioni sulla sulla foto altro ma piuttosto che non avere la foto è meglio averla poi usando il flash il flash essendo una fonda luminosa molto forte sugli sposi sicuramente perdo meno dettagli che nella zona che ho meno luce quindi la macchina fa più fatica a prendere informazioni non è contenta hanno detto una cosa importantissima tutte queste giuste considerazioni che si fanno ma se aumento l'uso ma se faccio ma se se sono tutte giuste se sei un professionista e devi portare a casa il lavoro in quella circostanza non puoi tanto diciamo scegliere non puoi permettere di non scattare in quel caso devi effettuare lo scatto devi portare a casa il lavoro ma se ricordi tanto quando abbiamo fatto la serata con l'Alessandro Di Mise diceva io piuttosto scatto perché non posso perdere quella fotografia che potrebbe non ripetersi mai con anche una cerimonia ci sono dei momenti che non si possono perdere io non farei mai una io andrei anche a fare il secondo in aiuto a Gaetano ma non mi perderei mai la responsabilità di fare una cerimonia perché la paura di fare del momento giusto non è altissima devi sapere gestire la situazione anche di difficoltà e scattare perché la foto è più importante che non l'averlo cioè avere una foto con un po' più di grana è meglio che non avere la foto giusto? esatto concordo certo non deve essere un'abitudine avere la grana però bisogna andare a bilanciare sempre tutte le cose e trovare il giusto compromesso bene una volta che mi hanno deciso quale flash comprare ok quindi ho deciso di comprare un flash esterno quando è che posso utilizzare questo flash esterno? perché giustamente lo ho comprato ma ce l'ho nella borsa e non lo so mai per la mia esperienza diretta io lo utilizzo nelle cerimonie principalmente ok quindi dove non posso non perdere lo scatto devo farlo battesime cresime matrimoni tutti quegli eventi dove sono pagato e il cliente vuole la foto e non si discute quando ho bisogno di creare un'atmosfera particolare quindi fotografia notturna quindi ho bisogno di illuminare delle zone particolari quindi anche non il flash per forza in camera ma anche staccato dalla camera e in rarissimi casi perché ho la fortuna di avere attrezzatura da studio quando ho fatto le foto da studio posso fare un esempio Certo foto da studio io amorevo il preso da studio però nel momento in cui mi sono trovato per fare una trasferta in Polonia non mi sono potuto portare il preso da studio perché non pensavo del bagaglio madre ho fatto tutto con l'idobra esatto e qui vado ad aprire un capitolo che verrà uno delle quello che volevo spiegarvi oggi su quelli che sono i flash e come posso andarmi a creare un mini studio a casa esistono in commercio e questo Fran sono sicuro che ce l'ha se non così simile certo con senso identico aspettivato al flaccino sono degli oggetti che si mettono su quelli che sono gli stativi che sono i cavalletti che si utilizzano per tenere i flash quindi cosa succede io il flash non lo tengo più in camera decido di staccarlo utilizzarlo in modo laterale andando a creare degli schemi di luce che come tutte le luce possono essere una luce Rembrandt piuttosto che una beauty piuttosto che una luce di riempimento piuttosto che per gli schemi quelli poi andremo a fare lezioni specifiche ad hoc quindi vado a montare il mio flash in questo modo adesso vi faccio vedere come si monta vedete che prende il mio flash lo monto all'interno chiudo e ho il flash che mi dirige la luce dove voglio io e quindi ho la possibilità di veramente avere con poco prezzo un flash che può essere paragonato a uno professionale quindi qualcosa ne posso portarmi in giro che pesa poco non ho bisogno soprattutto della corrente elettrica perché se sono in esterna se sono in ambiente in esterna non ho bisogno della corrente elettrica e qui apro una piccola parentesi le batterie le batterie è un altro capitolo enorme ognuno porta la propria esperienza io personalmente ho provato le batterie le dure a cell ok al primo matrimonio li ho tirati fuori dal flash dopo che a metà metà cerimonia quando erano il flash non ce la faceva più a scattare non riuscivo a tirare le mani scottavano e quindi da lì ho deciso di fare una ricerca personale sul tipo di batterie sono arrivato ad acquistare queste batterie qua che sono delle sono delle energizer ok adesso arrivo a vediamo se le stop c'è in modo che la vedete meglio la vedete al contrario ok le ultimate è lithium sono batterie al litio non ricaricabili costano un po' perché costano un po' tipo due batterie costano 8 euro qualcosa del genere cioè un capitale 8 o 4 euro non mi ricordo comunque è un capitale ma vi garantisco che con due batterie che con un patto di batterie più che un patto di batterie ci faccio tranquillamente un matrimonio e mezzo anche due di cambiare un altro modo quindi sono sicuramente batterie molto potenti danno un difetto come tutte le batterie al litio che ho provato danno 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 a un certo punto senza preavvico muoiono e quindi bisogna avere a portata di mano quelle di scorta ma penso che quando si fa un perito evento le batterie di scorta ci devono essere sempre non può esistere di non avere la batteria di tutto stanno con le batterie di scorta assolutamente quindi qui in tasca va sempre tenuta e di sicurezza anche perché sia per la è nell'otto pro se ne sono non le conosco o Bruno non le conosco se tu ti trovi bene valutiamole le valutiamo più che volentieri e poi facciamo il consiglio magari costa 20 euro il consiglio che diamo ovviamente è sempre quello di avere batterie di scorta sia per la macchina fotografica che con il flash e quant'altro sempre ma anche per quello che adesso arrivo a continuare quella che la mia ah no devo eccolo qua ci siamo quello che vado a montare quindi cosa succede io compro questi oggetti che mi permettono di montare quelli che sono dei diffusori Giulio ricaricabili ricaricabili le avevo provate qualche anno fa con le radioline quelle che sono per poco tipo quelli che fanno il butto fuori piuttosto che ricamperisti o altro non mi sono mai trovato bene perché non ricaricavo poi poi a un certo punto non capivo se tenevo bene la carica se le avevo caricate bene o altro nel dubbio per essere sicuro di non sbagliare durante un servizio le compro nuove ce le ho lì impacchettate e le uso nuove sono sicuro a parte del budget destinato all'avvento del lavoro esatto se stai facendo un lavoro non per chiedere le mie ricaricabili che le ho perché so che magari io mi uso per poco e allora ok se devo fare anche un evento ma non un evento di compleanno qualcosa comunque di importante poi vengono scegliere come danno delle batterie che so che comunque mi danno la garantia perché poi se non hai flash anzi lo quanto vuoi allora si che la foto ti viene sgranata quindi cos'è che posso fare con questi oggetti qua posso montare dei diffusori che è il nostro scopo i diffusori sono quelli che vanno a modellare la luce davanti al flash e qui vedete un softbox rettangolare che è quadrato e vedete uno smooth lo smooth è il cono sono tutte e due dell'attacco Bowens che è quello A3 una baionetta A3 anche qui dovete decidere molto importante decidere che cosa utilizzare come attacco perché in commercio ce ne sono tanti abbiamo qui io ho messo altri altri diffusori questo fa un octabox a luce diretta questo ne prendiamo dopo qui abbiamo degli stripper che sono sia con i load up davanti che senza è lo stesso con un accessorio davanti abbiamo degli ombrelli abbiamo un beauty dish quindi magari poi Franz quando vi spiegherà le sue fotografie mi parlerà magari di cosa utilizzato di questo quindi ripeto come si chiamano questi gli altri ho messo in mente vedendo dal punto di tutto lo strip anche la Newer fa dei flash cobra buoni a dei prezzi medio a medio bass medio a diciamo una frailistin per dire già non il Newer ha un valore interminio anche la Newer fa un ora ho visto che hai messo lo strip con la marchia perfetto allora Bruno invece segnala prima le Nelop pro sono delle batterie ricaricabili che tengono benissimo grazie Bruno per l'altro quindi abbiamo gli stripper abbiamo l'ombrello ok abbiamo beauty dish e poi abbiamo l'octabox vediamo qua l'octabox ci siamo? la come utilizzarli come utilizzarli fa molto nell'esperienza personale adesso magari facciamo due schemi veloci alla lavagna dopo quando Frant magari spiega come li ha posizionati vi faccio sulla lavagna vedete? posso dire una cosa ragazzi il flash per quanto potente ha una diffusione di questo tipo è ovvio che con un flash a slitta non si può usare il diffusore da 4 litri di diametro perché comunque non riuscirebbe a coprire tutta la parabola bisogna comprare anche il diffusore in funzione della divisione della potenza della punta che abbiamo esatto un'altra cosa importante più il diffusore è grande più è morbido la luce che va a creare se non potete non potete pretendere da un diffusore piccolo spendere poco anche lì avere un diffusore piccolo avere una luce molto morbida perché capite che il cono che va a creare è molto ridotto e quindi è una luce molto diretta più è grande il diffusore molto più morbida è la luce ho presente il diffusore che c'è in studio la collega Simona Lazzarini per la fotografia dei bambini è un diffusore da un metro e ottanta capite che io ci passo dentro tranquillamente capite che sono anche io ci passo dentro anche io capite che sono che poi ovvio ogni situazione ha la sua però non pretendente da roba piccola avere una luce molto morbida o una luce particolare per questo sconsiglio vivamente di andare a comprare quelli che sono gli accessori o i mini studio che si trovano online a pochi centinaia di euro piuttosto fatevi un tip in questa maniera come vi stiamo spiegando noi e avete un tip versatile e soprattutto i flash hanno la stessa sedente di potenza quindi avete qualcosa che potete utilizzare anche in giro posso? tanto hai detto una cosa giustissima è sempre il suo altro discorso in base a quello che abbiamo dobbiamo decidere quello che facciamo non è che delle dirette stanno risposto a una domanda dove ti chiedevano la fotografia il cellulare l'ingegnerare e quant'altro e tu mi hai detto guarda perché è fatta col cellulare è fatta con la macchina la reflex è fatta con la mirrorless e così via è vero poi è ovvio che in base a quello che ho in mano posso fare una cosa piuttosto che una quella è normale se non ho una lente macro è ovvio che avrò più difficoltà a scattare macro se ho un solo un solo flash in questa cosa che magari mi ha 10 ovviamente mi dovrò adattare per fare cose diverse tutto dipende da quello che abbiamo di posizione se sappiamo cosa ci serve sappiamo se potrebbe essere possibile o meno fare qualcosa posso dire una cosa Giorgio Paratico chiede cosa vuol dire master e slave il corso madre Giorgio Tano adesso spiega a questi ricevitori e quindi il discorso verrà in automatico giusto Tano? esatto prego scusami praticamente abbiamo visto che se siamo in esterna e vogliamo usare più di un flash abbiamo i flash che dialogano tra di loro grazie alla macchina abbiamo la possibilità di avere un flash master quindi un flash che comanda e dei flash che sono slave che invece sono degli schiavi quindi quelli che ritengono la luce ricevono il comando dal master però devo avere sempre comunque un flash montato in macchina quindi avrò la luce principale che è la mia diretta del flash della macchina e magari due laterali o due che fanno riempire da dietro il soggetto ok ma devo avere il master montato sulla macchina e gli slave invece in giro per dove mi servono cosa succede però? succede che magari io non voglio avere i flash in macchina ok perché? perché non voglio avere la luce diretta voglio avere solamente una luce laterale due luci laterali due luci dietro quello che voglio ma non lo voglio in macchina allora ho bisogno di quelli che sono i trigger i trigger sono questi oggetti qua poi sono proprio quelli più economici ce ne sono di tantissimi modelli ce ne sono addirittura adesso i trigger sono alcune flash sono montate all'interno ragazzi il mercato è veramente ampio chi più ne ha più ne metta la tecnologia si evolve a passità gigante ma il principio è sempre quello quindi ho bisogno di quello che vedete qua a destra è il vostro il vostro master quindi è quello che dai comando quello che io vado a montare perché non ce l'ho fatto ce l'ho lasciato in studio in questo momento mi viene un po' difficile da casa spostarmi verso lo studio quello che io monto nella mia slitta della macchina ok in più ho gli altri due a sinistra che sono gli slay in questo caso gli slay quelle che dicevano il segnale ma che mi danno vedete monto sulla macchina magari sono bravo che vi faccio vedere anche le foto di esempio quindi nel momento in cui scatto gli altri invece sono montati sul flash in questo modo vi permette di sincronizzare il flash con la macchina attenzione quando montate questo oggetto qua la macchina fotografica è vero che vi darà il segnale al trigger ma non sa qual è il tempo di sincronizzazione del flash quindi dovete già voi impostare il tempo di sincronizzazione giusto quindi normalmente mediamente dovete leggere sempre i manuali il 160 lo montate un 160 e siete sicuri che vi esce il risultato corretto ci sono alcuni trigger di questi con la funzione master slave e quant'altro che sono talmente fatti bene e potenti che possono addirittura andare a gestire la potenza del flash la potenza del flash nel tempo di sincronizzazione e quant'altro sono anche sistemi molto evoluti ovviamente noi iniziamo da piccoli passi iniziamo spendendo poco e poi da lì ci andiamo in un culo a evolvere il consiglio che è sicuro la verità quello quello che mi ha fatto comprare Tano e devo dire che usando io stesso cavalletto il flash sul cavalletto in alto e tutto potendo comandare dalla macchina è stato molto comodo cioè non devo ogni volta abbassare l'operativo di comandare il flash posso comandare tutto direttamente dalla macchina però è stata una spesa che ho fatto io all'inizio avevo questi è stata una spesa che ho fatto successivamente quando ho visto che scantavo a flash l'ha finito allora in quel caso ho detto dai Tano tu la possiamo prendere vediamo un attimino che ha consigliato quell'azienda di cui vi parlavo prima e ho preso questo trigger di cui veramente oggi non riuscirei a fare meno perché non dover abbassare l'obstitivo e l'alzionostitivo e l'alzionostitivo ogni volta è molto molto comodo perfetto Franz quindi vedete l'ho chiamato appunto per avere un'esperienza diretta è quello che fa io lavorando da anni con i flash da studio questa attrezzatura so che esiste la consiglio ma non la uso utilizzo altre attrezzature quindi ho voluto lui in diretta appunto per questo adesso direi se Franz è d'accordo di passare alle sue fotografie il concetto il concetto poi è lo stesso nel senso il concetto è veramente lo stesso che sia un flash più grande più piccolo non cambia niente io qui devo essere da una telephoto che mi avevi richiesto all'unità naturale con una sola fonte di luce così almeno ok le copre sono quelle fatte con copre poi anche quelle con copre sono anche i fiori sono fatti con le copre e la parabola che mi viene dando tempo va bene incominciamo a vedere le prime ok tutto un po' dopo la c'è alla carolina quindi l'ho fatta con le queste sono fatte di un flessor di un trac che si vive in copre e un trac sull'interno e con un diffusore un po' che si dice da fare che si prende beauty dish beauty dish beauty dish è questo di un po' quindi mi è perché molto un po' che mi sia un po' che mi ha un po' d'altro c'è il potere che mi ha avuto il Grazie. Grazie. Vado avanti con queste luci, quindi quando vuoi intervenire. Vado avanti. Ok, allora, ripeto io per Franz, dovrò abbassare magari il volume, magari perché ti taglia il microfono. Praticamente questa fotografia qua è stata fatta con un beauty dish, che è quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi è un disco che con voglia e come vedete va ad abbracciare con la luce il soggetto, creando queste ombre molto morbide. Nella seguente che vi faccio vedere adesso invece ha messo davanti al beauty dish una griglia di nido d'ape, che è quella che proprio vedete, ok? E' questa qua, che dà sicuramente un effetto differente. Ok, questo invece è Franz? Ok, quindi cosa succede? Quando utilizziamo i nostri flash, visto che hanno una parabola, visto che anche lo spazio che ha a disposizione Franz a casa sua non è molto ampio, gli dà un collo di luce. Questo collo di luce, nella parte centrale ovviamente è più forte, nelle parti laterali è più debole. Vedete che se il soggetto è ben illuminato in mezzo, in fondo va a perdere quella che è un po' la potenza della luce. Attenzione alla caduta di luce. Immagino che questo fa tutto lo stesso modo. Una cosa che fa Franz, che è una cosa che a me è molto interessante, è lavorare sia magari con flash, sia magari lavorare con la luce che gli entra in casa, perché lui ha poco spazio, ha una casa abbastanza luminosa, e gli permette di lavorare senza flash. Quindi è anche un esercizio che io vi consiglio di fare in casa. La logica è la serie di immagini. Fiori. Fiori. Questi sono delle foto. Allora, come è stata costruita questa immagine? Questa immagine è stata costruita semplicemente con il flash, una parabola che ha circa questa dimensione qua, conica, che quindi dà indirizzo alla luce molto forte. Come vedete, in effetti, le ombre sono molto forti e ha messo sotto un polistirolo per andare a schiarire le zone un attimino più d'ombra. E come vedete, sono dei ritratti a dei fiori che sono stupendi. Spero che voi concordiate con me. Quindi, si può fare veramente di tutto. Come? Dosando le luci. Volete avere uno sfondo dietro scuro? Non dovete avere più forza un cartoncino nero. Basta che voi prendete, vi allontanate da quello che è lo sfondo dietro, fate in modo che la luce non cade sullo sfondo. E visto che la luce non arriva sullo sfondo, riuscirà sicuramente buio. Ok, quindi quello che abbiate capito è proprio la questione di distanze, la luce è questione di distanze e di gestione. Quindi volete avere uno sfondo scuro, ma anche in casa volete avere un bel sfondo scuro, ma non avete ovviamente i teli neri o quant'altro. Bene, non c'è problema. Prendete la stanza, la chiudete, fate in modo che sia un ambiente abbastanza buio, non per forza buissimo, e illuminate col flash appena appena il soggetto. Faccio un colpettino di flash. Amassate la potenza e fate in modo da illuminare. C'era prima una domanda, vediamo se riesco a recuperarla. Quando si usa il flash, i tempi di esposizione e il diaframma come cambiano? Usi gli stessi che usaresti senza manchi al buio? Assolutamente no, Giulio, perché se utilizzo il flash è una fonte di luce che mi illumina. In più vi ho detto che ho un tempo di sincronizzazione e lì devo fare delle prove. Assolutamente, delle prove. Esatto, perché il tempo di mani fermo è un centosessantesimo, un duecentesimo, un centesimo a seconda del caso, e quello su cui giocate il diaframma. aprirlo o chiuderlo. E la potenza del flash, sono quelli due fattori che dovete variare. Queste invece immagino sono delle foto fatte con la luce, la balcone, luce naturale. Quindi come vedete si può... Invece vedete che qua lo sfondo invece è illuminato, perché la luce del sole è molto più costante nello spazio, perché è molto più potente. E quindi il soggetto è ben illuminato, ma anche lo sfondo si vedono dei dettagli. Quindi vi consiglio di provare con la luce che entra dalla finestra. Vedete, si vede qua addirittura la luce che entra dalla finestra, è come è illuminato il soggetto. Di provare a fare questi giochi. Ovviamente l'esperienza fa. Assolutamente sì. Domande su quello che abbiamo detto finora? Nel frattempo faccio girare ancora le immagini di Franz, che sono stupende. Complimenti Franz, come sempre. Ah, sì. Sono un po' più aggiorno di che non è un po' più. Per l'audio, sulle dirette, per tutto ci stiamo attrezzando. Credetemi, stiamo vedendo di trovare soluzioni. Qualcosa vedrete già settimana prossima di novità sulle dirette. E non solo, perché non mi anticipo niente, perché stiamo veramente lavorando tantissimo su quelli che sono questi tipi di prodotti per voi. Se non arrivo a domande, vi comunico già che lunedì ci vediamo alle 18. Non vi anticipo l'argomento, perché devo far baciare un po' di cose astrali. Sicuramente settimana prossima, se riusciamo, parliamo anche di video con Fabio. Quindi dobbiamo giustamente far combattere i rispettivi impegni. Parleremo ancora di fotografia. Una delle richieste che è stata fatta è stata fatta quella di che filtri usare, sugli obiettivi e come usarvi. Quindi parleremo magari anche di quello. È un argomento non molto ampio, quindi magari andiamo ad inserire insieme a far cos'altro. È uscito bene l'impasto? È un pezzo. Non so, perché non so, perché non so, perché non so. Ok, faccelo vedere. Siamo curiosi dopo un'ora che mi basti. Bellissimo. Bene, se non ci sono domande... Esatto, anche sotto scrivete le domande e risponderemo tranquillamente. Chiedete, 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 come sempre. Il flash in questo momento, giustamente, si possono acquistare per chi fa la spedizione. Non occorre partire con tanto, occorre partire con il giusto. Il giusto cosa vuol dire? Quello che vi serve. Per ottenere quello che vi serve basta poco. Anche perché una cosa di cui non abbiamo parlato stasera, ma che ne parleremo, è quello della schemi luce, perché è vero che bisogna avere questa attrezzatura, ma anche è vero che bisogna sapere come posizionarle, dove metterle. Perché se non si sanno posizionare, non si sanno mettere, il risultato è... Perché possiamo avere la più bella modella di questo mondo, possiamo avere la più bella set di questo mondo, la più bella situazione di questo mondo, ma se le luci sono sbagliate, la fotografia non esce perfetta. Giorgio chiede in quanti siete a cena, e Franz ha detto prima che sta facendo il pane e poi lo congela. Dele si chiede, in queste foto il flash è sempre puntato verso il soggetto? Sì, sempre. Ma con diffusori ovviamente differenti di volta in volta. Alcune volte sono del beauty dish, alcune volte invece sono del soft box, altre volte sono degli ombrelli, vi sono anche a disposizione degli ombrelli, ogni diffusore fa una luce completamente differente. Patrizia non mi sente. Voi mi sentite? Mi sentite? Punto di domanda. Vediamo se arrivo a qualche pollicione. Comunque, se vi siete perso a qualche parte o altro, tutte le dirette sono registrate, potete vederle adesso su Facebook, da settimana prossima le stesse dirette, in un attimo, sistemate su Instagram, e a breve anche verranno memorizzate su YouTube. Perfetto. Sempre. Sempre se ce l'hai montato in macchina. Ok? Quando non hai montato in macchina non funziona. È vero che il TPL può ingannare la macchina, nel senso che può succedere che hai una scena un po' particolare, può sovresporre o sovresporre, ma necessità, la tua esperienza, riuscire a... Sì, qua stavo rispondendo alla domanda di prima, alla tua esperienza a riuscire a gestire più o meno la potenza del flash e a capire come funziona, per questione di esperienza dei sì. Possiamo dare tutti i consigli che vuoi, ma sicuramente se sei sul campo e hai un problema, è più facile risolverlo. è proprio perché non c'è una regola uguale per tutti, ci sono delle guide uguali per tutti, ma poi ogni situazione è ben diversa, come sicuramente avrai ben visto. Bene, se non ci sono altre domande, aspetto ancora un minutino per le domande, così facciamo giusto alle 14 giusti, così siamo correttissimi coi tempi. Se volete parlare di altri argomenti, mandate tutti i suggerimenti che volete. Magari, mentre stiamo qua, vi faccio vedere giusto uno schema per giocare con il flash che ce la avete in casa. Allora, sicuramente se, ho perso il pendonello, avete una finestra e vi entra la luce del sole, ok? Vi entra la luce del sole dalla finestra, non mi mettete il soggetto qui, diretto, con voi magari messi qua a fotografare, ok? Con la luce diretta, riuscirebbero delle ombre troppo forti. Potete trovare una zona o mettere un diffusore davanti, quindi una tenda che vi aiuta a sconderla luce, oppure magari mettere i soggetti in una zona dove la luce non è diretta e quindi magari avere una luce laterale che crea un bel effetto di chiaro-oscuro sul viso. Attenzione, per la luce, devi prendere il viso. Quindi l'ho dato anche a terzo il senso. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi avere la possibilità di avere la luce del sole che illumina il lato e dà un po' di tridimensionalità, come un po' la vedete qui, no? Come vedete da Francia, una zona più scura, più o meno scura dall'altra parte, da tridimensionalità, appena appena, da tridimensionalità. se invece volete utilizzare il flash, il consiglio è quello di avere il soggetto, voi che fotografate, ok, e sicuramente il flash ha 45 gradi. A 45 gradi. E poi vi invito a giocare sull'altezza, saremo più o meno alto rispetto alla posizione degli occhi. Cosa importante, se riuscite a prendere la luce del flash negli occhi, il puntino di luce che è sugli occhi, che dà ancora quasi più alla fotografia. Il flash se si usa in esterna, assolutamente sì. E qui vi racconto un aneddoto che faccio spesso. Spesso quando faccio i matrimoni e mi trovo in una situazione di luce molto bella, quindi con un cielo molto luminoso o quant'altro, tendo a mettere gli invitati con gli sposi un po' in controluce, con il sole che gli erano un po' da dietro, quindi un cielo molto luminoso. E quindi loro sono in ombra. Cioè l'occhio umano riesce a compensare l'ombra, quindi rimette bene, ma la macchina geografica non ce la fa. Quindi per far uscire un bel cielo, cosa faccio? Prendo il flash diretto, ma quando dico diretto, ma dico diretto, magari cattivo, aumentando la potenza al massimo, sui soggetti. Quindi il cielo è ben illuminato, la luce del flash sui soggetti che li illumina bene, quindi non in controluce, ma ben illuminati, e la foto esce perfetta. Capita spesso che gli invitati fanno una foto col cellulare e gli esce col cielo bianco, oppure con gli invitati completamente, con gli soggetti completamente bui. Quindi, ma sì, ma quasi sempre quando si fa il controluce, o magari si vuole giocare con degli impimenti sulla, non so, o la luce laterale, voglio riempire questo lato, sì, perché i flash hanno una temperatura di luce molto simile a quella del sole. Se invece andate nel periodo, che non so, il tramonto, l'alba, dove la temperatura della luce, del sole è ben diversa da quella del flash, è meno presa, quindi più calda, dovete andare a mettere quelli che vi ho fatto vedere che sono dei filtri colorati per andare a correggere, vediamo se c'è qualcosa qua, per andare a correggere, ecco ne ho uno, per andare a correggere quella che è la luce del flash, quindi un pochino più calda per andare a compensare. Come sempre, come sempre, come sempre, come sempre, certo, siamo qua apposta, che vedete, sono piccoli trucchi che con l'esperienza poi si imparano e noi siamo ben contenti di passarvi. Bene, vediamo se ci sono altre domande. Cristina e Mauro arrivate sul gong, stiamo ai saluti, quindi vi aspetto lunedì alle 18, poi vedrete domani o lunedì in giornata. L'argomento di cui tratteremo, come sempre, se avete, ripeto cosa sta dicendo Franz, Franz dice, se avete un cielo grigio, d'accordo, e andate a mettere una gelatina arancione sul flash, quindi illuminate il soggetto arancione sul flash, quindi il soggetto esce molto rosso, quando andate a bilanciare il bianco, il cielo in automatico da il grigio diventa blu, perché la foto per bilanciare il bianco e il rosso della pelle, che è diventata molto forte, prenderà il blu, e quindi anche il cielo da il grigio diventa blu. In che piensa che settaggio consigliamo di usare il flash? Il basic, il PTL. Il PTL, io in genere, cioè, tengo la potenza del flash a zero, o piuttosto, più uno, se ho bisogno, più un terzo, due terzi massimo, più uno, anche perché poi si è troppo forte, fa fatica a caricarsi il flash, mi fa lo scatto dopo, oppure si scarica subito la batteria, se ho detto troppo scuro, vento il chiesa. Il bilanciamento del bianco, vento a tenere il fisso o flash, oppure se riesco a trovare il bilanciamento della chiesa. E poi tanto, il post produzione e la volante errore riesco a correggere. Lo faccio sempre dopo. Esatto, lo scattavo in ROP, modifico sempre dopo. Bene, è stato un piacere per tutti, grazie Francia per il tuo intervento, buona infornata, visto che se ho domande, fatele sotto, che noi vi vi scriveremo, vi risponderemo a tutte le domande. Ciao Laura, ben arrivata, stiamo chiudendo le dirette, tra l'altro è partito vicino col tagliaerba, ci vediamo lunedì, buon weekend, buona domenica, se avete domande, ripeto, scriveteli sotto, se avete altri consigli, scrivete, siamo molto rispettati. Grazie a tutti, buona weekend, ciao. Ciao. Grazie a tutti